Quindi il Voyager 1 si allontana dalla Terra, supera 120, 125, 130 unità astronomiche che è l'unità di misura all'interno del Sistema Solare che è la distanza tra la Terra e il Sole e va a vedere le onde d'urto dovute al vento solare che tiene il mezzo interstellare, il plasma nel mezzo che c'è fra le stelle, lontano dal nostro Sistema Solare. Misura queste onde d'urto, passa queste barriere di energia e che cosa sente? Sente quelle che si chiamano onde persistenti di plasma interstellare, sono praticamente delle particelle in un vuoto molto più spinto di quello che si riesce a fare sulla Terra che ritmicamente urtano contro un ipotetico orecchio, in realtà abbiamo l'orecchio che è quello del Voyager e fanno una nota, una nota persistente, nella stampa è stato detto un um, è una nota a circa 3000 hertz, ve la faccio sentire un attimo, è questa la frequenza, corrisponde, mi perdonino i musicisti, a un facette diesis e si muove molto lentamente nel tempo, è stato un facette diesis misurato nel 2018, poi man mano che si allontanava la sonda è diventato un Sol 7, poi è ritornato un facette, tutto nel giro di tre anni, quindi diciamo è una musica suonata, diciamo con molta con molta lentezza, appunto questo um che è stato così raccontato e dovrebbe essere diciamo quindi la prima volta che un mezzo costruito dall'uomo riesce a fare misure e mandarle intorno alla Terra dell'ambiente all'esterno dell'ambiente che è dominato dalla nostra stella, cioè dal Sole.